Vedo, Ruti, una televisione monolocale, Renato Guttuso, i famosi funerali del Toyota, Colosseur, Neruta, Croasimodo, Angela, Vladimir, Elie, Gianpaolo accanto a Renate, Bellinguer, fotografia delle funerali, Antonia, Lomorte, Corona, De Fiore, Descartes, Giancarlo, Inclare, Lucchini, i cap dei sindacati, Stalin, George, Bantier, Ponteggio d'Almen, Brezhnev, Rilenin, Pugnacchiusi, Carlo Lev, Bracciante Siciliana, Falschermartel, Rilenin, Tramonte, Rilenin, I Rilenin, Grazie a tutti. Campo totale dello funerale del Togliate. Teledo Rute, una televisione monolocale, il Marchese Fulvio Abate, il candidato alle primarie dello centrosinistra. Molto presto ci vedremo per il comizio di situazionismo e libertà alla sua tomba al Verane, ingresso e portonaccio. Teledo Rute.